Doppio appuntamento del Comitato Civico con una doppia manifestazione sul tema dell'acqua pubblica martedì a Licata e giovedì ad Agrigento per dire di no a tutto quello che comporta la gestione di Girgenti Acque. Perfetto, buongiorno. Intanto saluto tutti e ringrazio Canale 10 per l'opportunità che ci sta dando di questa intervista. Invito tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione che si terrà giorno 15 alle ore 15 che partirà da Piazza Mercato per arrivare a Piazza Progresso. E ringrazio in anticipo tutti i cittadini che parteciperanno ma specialmente do l'invito alle donne di partecipare. La manifestazione è per l'acqua. L'acqua che è un bene indispensabile, l'acqua che è oro. A questo punto se ci manca nelle nostre case senza acqua il cittadino come si trova? E perché poi l'acqua? Pensiamo pure all'agricoltura, alla panificazione. Quando arriva acqua sporca, quando arriva acqua inguinata, che pane mangiamo? Che frutti e che verdure mangiamo? Mi raccomando partecipate e venite perché la questione è importante. I comuni viciniori spesso a volte dicono che l'Icata è un paese dei babbe, scusate se lo dico in dialetto. Quindi la nostra manifestazione che deve essere pacifica, dobbiamo dimostrare a questi signori che l'Icata è un paese ospitale e quando c'è da difendersi si difende con la legalità e con la gentilezza. Quindi vi prego tutti di dimostrare a questi signori che l'interesse è anche per tutti noi. Oltre a questo vi voglio dire una cosa. Non è che l'iniziativa è venuta solo da noi. Abbiamo formato un comitato intercomunale dove ci sono tutti gli altri paesi nelle nostre stesse condizioni dell'acqua e loro stanno agendo con la stessa serietà. Quindi cerchiamo di essere presenti. Certo qualcuno si può lamentare dell'orario che abbiamo scelto, che è alle 3 o un orario un pochettino scabroso. È stato scelto per motivi di organizzazione. Però con questo sacrificio che facciamo dimostriamo di avere la buona volontà di risolvere il problema dell'acqua. La gigente di acqua si deve mettere la testa a posto con queste bollette fasulle, con queste bollette gravose che non ne possiamo fare più o meno. Quindi vi prego cari cittadini non facciamoci dire ancora ricata o paese di babbi. Grazie. Grazie. Grazie.